Per quanto riguarda Panasco Dash, non è molto frequente, come ci saremmo aspettati in internet, 11.300 risultati grazie a Google. I rapporti tra l'italiano e l'ungherese hanno dato all'italiano una trentina di prestiti, di parole provenienti dall'ungherese, tra le più note possiamo citare la paprika, la puscia, cioè la viagura, e poi il toccai. Agnes Heller è l'accezione che ha dato della parola Panasco Dash che trovate nel vostro librettino. Dice a un certo punto l'abitudine alla lamentela non è così innocua come pensiamo. Ecco, in questo caso l'abitudine alla lamentela è stata disastrosa, pensavo a questo, a questo lamentarsi che poi provoca un po' in quanto riguarda Panasco Dash. La ritrazio è una domanda molto interessante, ma in realtà l'attentura dell'abitudine è una volta a rivedere con la proiezione diretta del potere politico, perché il potere politico quello che cerca di fare è di dimostrare che tutto andava male prima delle elezioni e di sottolineare invece che tutto va bene o altra bene subito dopo le elezioni. Questa è stata sinceramente propaganda e non è un lamentamento della quale invece ho parlato io. Ma se mi si chiede, quando mi è stato chiesto di trovare una parola che definisse al meglio quali sono dei frattri salienti del popolo ungherese, io ho deciso di non ricorrere a delle immagini stereotipate. E infatti se si chiede agli ungheresi qual è la caratteristica dell'ungherese stessa la loro risposta è quella che sono dirigenti. Se si chiede agli ungherese qual sono i russi la risposta è religiosi, come sono i francesi, i morali, i serbi, i cruderi, i rumeli, di storia. Per questo io ho deciso di non ricorrere ad uno stereotipo, bensì ho deciso di descrivere quella che è una maltrudine, uno consuma, per descrivere come noi ungheresi ci comportiamo nei confronti degli altri. E questa veramente scuola di una cultura della lamentela nel mio paese, perché tutti si lamentano e tutti sanno che gli altri si lamentano. Di sicuro non è una caratteristica che viene ereditata geneticamente, bensì la si apprende di crescendo per se si ritrova il modello del padre, della madre, della famiglia, dei parenti e quindi si cresce, credendo che questo sia quello che uno deve effettivamente fare. Per esempio se si incontra qualcuno in per strada, chiede per una strada, risposta è sì che il rabbino è l'acnososso da lei. Direi se sto abbastando i freddi così, se si chiede alla tua madre come stanno i figli, i bambini sono malissimi e il mio padre nel mondo. I mariti, quando abbiamo parliamo, sono veramente bambini sono stati. Basta andare da un bambini per vedere tutte le donne che fanno a gara per parlare mai del proprio marito e che devono assolutamente fare. Questo non può essere. Se ci si chiede perché si si è sviluppato in questo tipo di cultura della lamentela, beh, magari ci sono diverse spiegazioni. Forse perché i bambini non vogliono essere vittime di invidia, perché ovviamente siamo molto bene, il marito sta bene, i mariti i bambini sono bravissimi, gli altri si dovrà esercitare l'inviglia della scuola. Ah, e poi un'altra cosa, gli ungheresi sono bravissimi in questa cultura nei funerali e nei ciliteri, proprio per questo si generano esempi più spettacolari per il paese. E ovviamente non appena così si scoprono male il comore di vedere improvvisamente sui bambini. Quindi gli ungheresi rispettano molto rispondi, io non voglio un video che non fu la prova provata del fatto che il lamento è un po' uno sport nazionale ungherese. Sentiremo anche risuonare un po' di più ungherese in questo video. e vi più 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 Grazie. 5-7-7-9-6-5-7-0 improvvisamente un certo numero di persone si raduna in un posto e comincia a fare delle performance. Tutte le performance hanno come obiettivo quello di mettere in versi i lamenti della gente. L'avete visto, le domeniche sono sempre più corte dei lunedì, l'autobus con l'arrivo di l'olario, eccetera, eccetera, eccetera. E' questo che intendeva anche sempre. Intendevo dire questo ma volevo anche aggiungere il fatto che la lamentiera non è il penso innocente perché ci sia niente un pericolo nella cultura della lamentiera. Noi infatti in primo luogo ci consideriamo delle vittime e per tutto l'arco e la durata della nostra storia ci siamo sempre considerate delle vittime. E da qui è nata la cultura della lamentiera ma la stessa cultura della lamentiera viceversa genera quelle vittime. Poi c'è il paternalismo e cioè la cultura della lamentiera è una cultura paternalista. Noi in un certo senso ci sentiamo per avere il diritto di supplicazione, di supplicare in un certo senso. Noi ci arrabbiamo il diritto di chiedere dei favori al governo, al leader, ai politici, a chiunque. Ma noi ne indichiamo questi favori. Non diciamo di avere i diritti, ma pensi ne indichiamo proprio questi favori dagli altri. E' il primo pericolo che si sente questo è proprio quello del suicidio. Ma questo dice che c'è un tasso di suicidio che è tantissimo nel mio paese, che addirittura è il primo o secondo in classifica in Europa in tal senso. E questo è strettamente legato a questa lamentiera continua. Perché se uno continua a lamentarsi finisce per credere veramente in quello che si sente sempre lì. Anche per quanto riguarda la tradizione letteraria è sempre così una generazione. Sappiamo bene che fin dalla Bibbia le lamentazioni di Geremia, della distruzione di Gerusalemme, sappiamo bene che anche Romero riporta dei lamenti, i tremoli, come di Achille per patro, quello di Androma che è morte di Ettore e che i Plantus era un genere venivale. Quindi non vogliamo dare tutta la colpa alla letteratura ungherese. Però forse non è un caso che il poema ungherese più antico viene considerato di solito un poema del 1300 circa che si intitola proprio Il Lamento di Maria. E' quanto che risulta anche nel testo del lino nazionale ungherese c'è tutta una serie, un lungo elenco di lamentazioni per ciò che ha subito il popolo ungherese. La letteratura è un po' uno specchio di questo elemento culturale verso il quale lei ci vuole portare anche la letteratura. interradientale Innanzitutto in me complimenti per la sua veramente approfondita conoscenza della letteratura ungherese migrevale che in effetti io a loro gravavano nella quale e non la tablienza. E lì in effetti c'era questo elemento molto forte che è la lamentera e che però non mi compare come caratteristica della letteratura ungherese del XIX secolo. Forse i migrevaci si lamentavano perché avevano persoon molto molto, ma sicuramente questo elemento, questa caratteristica si perde assolutamente nella letteratura iunista e in quella poi del XIX secolo. Addirittura si può dire che la cultura del lamento sia iniziata con vigore in via nel XX secolo e che si sia poi a nostra smossa nella ricerca. Qual è una cosa, una per cui secondo lei vale veramente in questo momento la pena di lamentarsi? Non è giusta la domanda, cioè forse questa domanda chiedersi se mai la gente lamentarsi o non lamentarsi, perché questa abitudine è veramente inerente, fa parte e ragionata del nostro modo di essere, i padri, il nostro padre lo fanno, il nostro padre lo fanno, fanno tutti e quindi tutti si comportano così e questa è la cultura della lamentera, ma penso che ad esempio esiste in tutta Europa questa altra abitudine, cioè il fatto che le mamme insistano sempre per i figli, gli sono tutti che hanno nel piatto e se non fanno si pietano ma tu me non mangi più, ma non ti senti bene, non è buono quello che ti ho cucinato e questa è una società che è condivisa tutta Europa. Per quel che riguarda invece la cultura della lamentera non si può fare nulla, perché è una cultura radicata a meno che, l'unica cosa che si può fare è far sì che i pericoli insidi in questa abitudine non diventano espliciti e qui torniamo al discorso di prima, nel suicidio, del paternalismo, della victimizzazione, in questo caso emulerare i pericoli può essere poterci stratificare questo un po' di abitudine, ma se l'abitudine non è pericolosa, questo è un appiccio che è compreso. Allora, se non ci sono altre domande possiamo chiedere qui, ringrazio Agnesa Lera, ringrazio Ian Rankin, ringrazio come sempre la nostra interprete bravissima, ringrazio poi che siete stati qui, l'appuntamento è domani, stesso orario, in questa stessa sete per un nuovo appuntamento di un nuovo appuntamento e di un nuovo appuntamento per un festival. Grazie.